Vaccini. Dal 1 marzo sembrano essere tornati i quantitativi previsti secondo gli accordi con le case farmaceutiche. Proseguono così a tambur battente le vaccinazioni anche sul territorio dell'uslotto Berica. Dal lunedì si è partiti con la somministrazione di AstraZeneca agli insegnanti. 15.000 a quelli previsti e le prenotazioni hanno già toccato quota 7.500, ma non si è fermata nemmeno la vaccinazione degli anziani. Continuano le vaccinazioni degli anziani. Questa settimana prossima iniziamo con la seconda dose del 1941, partiamo con il 1940 e il 39 e saranno mandate questa settimana quelle del 1938. Completata la vaccinazione anche con la seconda dose Pfizer agli operatori sanitari pubblici e privati, compresi odontoiatri, psicologi e il personale delle case di riposo, oltre 12.000 soggetti. A metà marzo alla volta dei farmacisti circa 300, ma già si parte con i pazienti fragili. E stiamo partendo con la parte invece dei pazienti vulnerabili o fragili, per cui abbiamo chiamato i trapiantati di midollo, i trapiantati di rene, i pazienti oncologici e stiamo a breve, chiameremo anche gli oncoematologici. Si parla complessivamente di oltre 4.000 persone già vaccinate il 60% di soggetti disabili con la prima dose e in parte già con la seconda e, dalla prossima settimana, si parte con i pazienti non trasportabili, circa 700. Numeri importanti che stanno richiedendo un impegno imponente della struttura sanitaria.